Una voce d'eccezione per chiudere la festa patronale di Alberone in onore di San Giovanni Battista e San Giacomo Apostolo. Danilo Sacco, cantante dei Nomadi dal 1993, sarà in concerto nel piccolo Borgodano a partire dalle 22. Dopo il concerto di Danilo Sacco ci sarà invece lo spettacolo pirotecnico con i fuochi d'artificio di mezzanotte. Un evento unico per chiudere in bellezza l'estate alberonese che ha riportato numeri da record. Danilo Sacco, dopo aver militato in alcune band musicali, nel 1993 entra a far parte dello storico gruppo dei Nomadi, al posto del fondatore scomparso Augusto D'Aolio, alternandosi alla voce con l'altro nuovo ingresso, Francesco Gualerzi. La settima onda è il primo lavoro dei Nomadi nella nuova formazione e raggiunge il disco di Platino. C'è la sua firma in numerose canzoni del panorama italiano, due le sue partecipazioni a Sanremo, con i Nomadi nel 2006 con il brano Dove si va e nel 2010 a fianco di Rene Fornaciari con Il mondo piange.